Partito in questo momento, vediamo, distinghiamo perfettamente la maglia bianco-azzurra del Creazzo con un numero 300 per la salita per la figlia Eichelè, si porta in un vantaggio a seguire la ciclistica giochese con Sebastia Camero in seconda posizione, ancora Cascantina e il rider svedese, le prime quattro posizioni, su Tirol, Panther Boys, Sebastia Camero in seconda posizione ciclistica oggi attese, Gallate, Sebastia Camero in seconda posizione